Li lasci partire, resto io qui. In qualche modo vedrà... Adesso ricordo tutto. ...dismo. E allora, hai capito? Bene, Orieta. Ti raccomando. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, anche lei è qui? Già. La prego di non dire... Capisco, è molto malato. Al contrario. Crepa di salute. Sei un fisioterapista, un paramedico, il sesso non c'entra. Oh, Orieta, sei proprio sicura? È finito. Durante il periodo del vostro trattamento dovrete mantenere una dieta molto rettica a sviluppo al corpo, ma è la mente che lo usa. Se no, cosa lo sviluppa a fare? Eh, già. Ma cos'è quella? Una vecchia casa abbandonata. Ma non aveva il coraggio di dichiararle il suo amore, perché era povero. Nonostante questo, la ragazza... Prendimi, Paolo. Apparato muscolare, per esempio. In particolare, quello delle gambe e delle braccia. Con piacere. In particolare... Grazie.